Buongiorno, sono la dottoressa Stella. Oggi parliamo della pilosella. È una pianta appartenente alla famiglia delle asteracee. Ha proprietà antibiotiche, diuretiche e detossificante a livello epatico. La pilosella principalmente è un potente diuretico e perciò viene utilizzata nel trattamento degli inestetismi della cellulite, gonfiore alle caviglie ed emi agli arti inferiori. Inoltre è utile nella depurazione del sangue in seguito a un'eccessiva assunzione di proteine animali. Per via delle sostanze contenute all'interno di essa come l'ubilliferone ha azione antisettica delle vie urinarie, utile nel combattere cistiti e infezioni del tratto urogenitale. La pilosella la trovate sotto forma di gocce, tintura madre o infusi. Per quanto riguarda le controindicazioni, data la sua forte azione diuretica, si raccomanda di fare attenzione con l'interazione di altri farmaci diuretici. Per oggi è tutto, per qualunque dubbio venite a trovarmi in farmacia. Ciao, alla prossima!